La vera storia dell'antico Egitto risale a molto più lontano di quanto ti viene insegnato a scuola. Nel video di oggi ti mostreremo alcuni esempi che scuoteranno la tua visione del mondo storica fino alle sue fondamenta. Cosa può dirci un artefatto di 7000 anni sull'effettivo sviluppo degli abitanti dei faravoni e che ruolo gioca il leggendario regno insulare di Atlantide in tutto ciò? Lascia un like e abbonati, rimani con noi fino alla fine per scoprirlo di persona. Storia e realtà Una rapida ricerca rivela che le piramidi colossali di Gizza hanno 4500 anni, ma per capirci correttamente questa è solo una valutazione storica. Quando esattamente gli edifici monumentali di fama mondiale siano stati costruiti non si può dire con certezza. Ma non è tutto. Come è noto non possiamo nemmeno dimostrare chiaramente quali tecniche di costruzione gli antichi egizi usassero nei loro progetti incomparabili. Sullo sfondo di questi misteri risolti, quei testi tecnici che trattano del passato egiziano sono troppo spesso accompagnati da parole come circa, stimato e presumibilmente, ed è qui che le cose iniziano a diventare strane. Alcune scoperte suggeriscono la conclusione rivoluzionaria che le antiche piramidi egiziane sono in realtà significativamente più vecchie di quanto gli esperti si siano resi conto. E non stiamo parlando di una deviazione di età di qualche decennio o secolo, ci stiamo muovendo nell'ordine di migliaia di anni. Per capire di cosa si tratta, chiamiamola affermazione fiduciosa. Diamo un'occhiata più da vicino a un antico manufatto di cui la maggior parte di voi probabilmente non ha mai sentito parlare, l'uovo nubiano. Misterioso ritrovato È il 1907 quando l'archeologo britannico Malabi Cecil Firth scopre un'antica tomba della cultura annagada nel deserto nubiano del Sudan. Storicamente questo popolo è collocato nel periodo calcolitico che ha preceduto l'era dinastica dell'Egitto. Così la cultura annagada si sviluppò nell'Alto Egitto all'inizio del IV millennio a.C., diffondendosi nel Basso Egitto nei successivi 1500 anni. Il ricercatore britannico ha finalmente trovato uno strano artefatto nella suddetta camera funeraria, un nuovo distruzzo decorato che è adornato con molte raffigurazioni diverse. L'età di questo ritrovato è stata datata notevolmente a 7000 anni. Tuttavia, una figura si distingue chiaramente dalle altre, tre forme triangolari segnate da una serie di linee trasversali. L'ipotesi che queste siano le grandi piramidi di Gizza sembra estremamente evidente. Tuttavia, gli esperti conservatori hanno comprensibilmente difficoltà con questa interpretazione. Dopotutto, l'uovo distruzzo è di 2500 anni più vecchio delle tombe di fama mondiale. Interpretazione controversa Di conseguenza, le illustrazioni sarebbero solo una catena montuosa, fine della storia. Ma non è così semplice. Dopotutto, questa spiegazione è oscurata da un enorme punto interrogativo. Che cos'altro ha queste linee cospicue? Se poi diamo un'occhiata anche alle montagne che troviamo in Sudan, le cose diventano solo più sconcertanti. La raffigurazione dovrebbe mostrarci la deriba caldera, che è oltre a 3000 metri. O un'altra catena montuosa nell'est del paese. Le decorazioni ricordano maggiormente le montagne di Altaka. Tuttavia, questa interpretazione richiede anche molta immaginazione. È difficile negare che le strutture estremamente appuntite abbiano grandi somiglianze con le piramidi inubie. Tuttavia, secondo il nostro stato ufficiale di conoscenza, anche questa interpretazione non è ammissibile. Dopotutto, questi edifici sono stati costruiti solo circa 2000 anni dopo le piramidi di Giza. Interpretazioni alternative Le figure con il loro carattere suddiviso ti ricordano la struttura tipica di una piramide. Sì, quindi incarnano la prova che le piramidi di Giza hanno in realtà più di 7000 anni. No, fortunatamente. Questi non sono gli unici dettagli immortali trovati sull'uovo nubiano. Diamo un'occhiata alla struttura zigzag a destra delle presunte piramidi. Potrebbe essere il Nilo? È risaputo che il possente fiume prende ripetutamente qualche deviazione sulla sua strada. Esattamente come raffigurato sull'uovo, il Nilo si troverà in realtà a destra o più correttamente a est dell'altopiano di Giza. Ma non è tutto. Abbiamo guardato solo un lato dell'oggetto finora. Dall'altra parte del manufatto c'è un'altra formazione simile a una piramide, ma accompagnata da un'immagine diversa. Sarebbe concepibile che vedessimo di nuovo un riferimento scenico qui, più semplicemente il bacino di Fayum, una struttura simile a una oasi, situata a sud-ovest del Cairo e a ovest del Nilo. Dai un'occhiata a entrambe le rappresentazioni fianco a fianco e prendi da solo la tua decisione. Una questione di tempo A questo punto non dobbiamo lasciare una circostanza non menzionata. Il corso e la forma in cui il Nilo si presenta oggi non corrisponde più a quello di 7000 anni fa. Di conseguenza non dovremmo nemmeno presumere che le raffigurazioni del Nilo sull'uovo nubiano siano esattamente come si riflette il Nilo sulle mappe attuali. Naturalmente non abbiamo a che fare con una mappatura dettagliata, ma piuttosto con disegni rudimentali su un nuovo distruzzo. Detto questo, ora possiamo dare un'occhiata ai dettagli più spettacolari dell'artefatto, la parte alta. Atlantide Come è facile da notare, su questo punto è adornato con anelli circolari. Beh, dovremmo aver dovuto vedere qualcosa di paragonabile prima. E in un antico mito, molto contestato naturalmente, accostandolo proprio a questo, si dice che l'isola principale del leggendario regno di Atlantide sia stata costituita da tre anelli d'acqua e due anelli di terra. E anche se è stato il filosofo greco Platone a mettere in circolazione per la prima volta la leggenda di Atlantide, è chiaro che le radici della leggenda si trovino nell'antico Egitto. Alcuni ricercatori sospettano che Platone stesso abbia imparato a conoscere questa tradizione proprio in Egitto, nonostante il fatto che il viaggio di Platone in Egitto sia controverso e si dice non riuscì mai a leggere i geroglifici. È possibile quindi che l'uovo nubiano non solo riveli la vera identità delle piramidi egiziane, ma confermi anche l'esistenza di un impero che la stragrande maggioranza degli studiosi ha liquidato come finzione. E cosa ci dice effettivamente l'artefatto sulla persona nella cui tomba è stato posto? Era uno studioso, un mercante o un viaggiatore che aveva visto questi luoghi raffigurati con i propri occhi? L'artefatto perduto Sapevi che solo tre manufatti sono stati trovati nella gigantesca piramide di Cheope? Sì, tre. Una palla di granito, un gancio di rame e alcuni frammenti di legno. Dopo che i primi due oggetti menzionati sono stati identificati nel British Museum, qualche tempo fa, qualche anno fa, un dipendente dell'Università di Aberdeen è finalmente riuscito a rintracciare i pezzi di legno di cedro persi in quel tempo. Incredibile ma vero, le reliquie insostituibili erano state nascoste nel museo universitario per tutto questo tempo. I pezzi di legno imballati in una vecchia scatola di sigari sono stati erroneamente conservati nel Dipartimento dell'Asia. Dopo la gratificante riscoperta, gli esperti hanno immediatamente effettuato una datazione al radiocarbonio e sono rimasti a bocca aperta. L'esame ha mostrato che il legno risale tra il 3341 e il 3094 a.C., più di 500 anni prima del regno di Cheope, a cui si dice che la piramide sia stata dedicata. Infatti, a causa della gamma considerata, è anche possibile che il legno sia 300 anni più vecchio, o in altre parole, 800 anni più vecchio dell'età presunta delle piramidi di Giza. Tentativi di spiegazioni Ma come fanno gli esperti a dare una datazione precisa e in un contesto veritiero? Cosa fa un pezzo di legno vecchio di 5.000 anni in una piramide di 4.500 anni? A questo proposito i ricercatori fanno riferimento a tre scenari concepibili. Una versione meno che convincente è che il pezzo di legno di 500 anni è stato utilizzato nella costruzione della piramide perché il materiale era una merce molto rara nell'antico Egitto. Se il legno è stato davvero riciclato per più di mezzo millennio, potremmo imparare molto dai faraoni quando si tratta di sostenibilità. Un altro approccio si basa sul fatto che l'antico legno era deliberatamente usato per onorare il faraone Cheope. D'altra parte, la teoria che dice che l'albero di cedro era già vecchio di diversi secoli quando è stato usato per la lavorazione del legno sembra un po' più realistica. Infatti i cedri possono vivere fino a mille anni. Ma se torniamo all'uovo nubiano e alle immagini immortalate su di esso, a questo punto non sarebbe concepibile che il legno di cedro non sia stato messo nella piramide 4.500 anni fa ma molto prima? Forse l'edificio è molto molto più vecchio di quanto possiamo immaginare. I misteri della Sfinge Alla fine del nostro video osiamo fare una piccola deviazione verso la Sfinge. Questa monumentale creatura ibrida che ha sorvegliato l'altopiano di Giza per migliaia di anni viene ripetutamente consultata quando viene sollevata la questione della vera età dell'Egitto. Più specificatamente stiamo parlando delle innumerevoli tracce di erosione dell'acqua che circondano la Sfinge. Si presume comunemente che le precipitazioni così pesanti e costanti si siano verificate l'ultima volta in Egitto 9.000 anni fa. Ma allora perché troviamo queste firme naturali in un sito che ufficialmente è stato creato durante il regno di Capren? O tra gli anni 2520 e 2494 a.C. Il fatto che la Sfinge sia stata sepolta dalla sabbia più volte nel tempo si aggiunge a questo mistero. Nel dettaglio l'edificio fu scoperto interamente solo nel 1926 fino alla base in pietra. La Sfinge è un edificio o una statua? Una delle domande più urgenti che i ricercatori hanno è se la Sfinge sia semplicemente un grande monumento o se può contenere qualcosa di nascosto nelle sue profondità. Una delle cose più strane che quasi chiunque noterà della Sfinge è la sua dimensione e forma unica. Mentre alcune foto fanno sembrare la Sfinge incredibilmente grande, in realtà è piuttosto piccola rispetto all'ambiente circostante. I ricercatori dicono che la Sfinge sia alta circa 20 metri nel suo punto più alto, il che significa che alta circa 65 piedi. Con questo in mente, le zampe della Sfinge sono solo leggermente più alte di un maschio adulto medio. È interessante però notare che le proporzioni della Sfinge non corrispondono a un leone moderno, il che significa che potrebbe esserci nascosto all'interno del monumento lungo 73 metri più di quanto alcuni ricercatori vorrebbero farci credere. Alcuni storici dicono che alcuni monumenti antichi li portano a credere che la Sfinge avrebbe potuto essere in precedenza un misterioso luogo di culto. Le leggende hanno iniziato a crescere nel corso degli anni riguardo alla Sfinge che potrebbe avere stanze nascoste al suo interno, con alcuni ricercatori che hanno detto che i testi antichi li portano a pensare che la Sfinge sia ora il luogo di abitazione di un'entità oscura. Altre fonti sostengono che la Sfinge sia la casa della conoscenza infinita, ma non lo sappiamo con certezza. Tuttavia una cosa è diventata abbondantemente chiara a tutti i ricercatori. Qualunque fosse il suo vero scopo, non era progettata per essere semplicemente un bellissimo monumento. Ha servito uno scopo integrale nella cultura dell'Egitto, solo che non abbiamo ancora capito quale sia quello scopo. Quanti anni ha la grande Sfinge di Gizza? È qui che le cose diventano incredibilmente interessanti. Quindi allacciati le cinture perché stiamo per portarti a fare un viaggio incredibile. Quanti anni ha la Sfinge? Beh, per il momento non lo sappiamo con certezza. Per molti anni i libri di storia di tutto il mondo sostenevano che la Sfinge sarebbe stata costruita durante la Quarta Dinastia. Se questo è vero, allora la Sfinge sarebbe stata creata tra il 252 e il 2494 a.C., rendendola poco meno di 5.000 anni ad oggi. Tuttavia non è mai stata trovata alcuna prova che suggerisca che queste informazioni siano vere. Da quello che possiamo dire, queste stime erano solo congetture dei primi egittologi. Tuttavia negli anni successivi a queste affermazioni abbiamo appreso che c'è grande possibilità che la Sfinge sia molto più vecchia di quanto siamo stati portati a credere. Se la Sfinge dovesse essere stata costruita intorno al 2500 a.C., allora sarebbe stata creata a immagine del re Caperen. Tuttavia, quando i ricercatori iniziarono a scoprire le raffigurazioni artistiche di questo re, scoprirono che la struttura non aveva alcuna somiglianza con lui. Ciò significa che la Sfinge doveva essere stata costruita in un periodo differente. Quando gli esperti hanno iniziato a dare un'occhiata molto più da vicino alla Sfinge, hanno imparato qualcos'altro che era altrettanto misterioso. Hanno trovato prove di erosione idrica vicino alla base della Sfinge. Questo è importante perché, per quanto ne sappiamo, questa zona dell'Egitto è stata un deserto sabbioso per migliaia di anni. Tuttavia, se si deve credere all'erosione dell'acqua alla base della Sfinge, ciò significherebbe che la Sfinge deve essere stata costruita molti anni prima che l'Egitto si trasformasse nel deserto che conosciamo oggi. Questo porterebbe la costruzione della Sfinge da 7.000 a 10.000 anni fa, se gli storici sono accurati. Tuttavia, alcuni resoconti biblici metterebbero la Sfinge da qualche parte intorno ai 6.000 anni fa. Indipendentemente dalla data in cui crediamo, una cosa è certa, la Grande Sfinge è stata costruita molti ma molti anni prima della creazione delle piramidi. Ciò significherebbe che gli antichi Egizi, che abbiamo conosciuto e amato, potrebbero aver creato la loro storia e la loro città in cima a città che erano già esistite, piuttosto che la Sfinge e le piramidi create dallo stesso popolo. Sono state probabilmente create da culture completamente diverse, a migliaia di anni di distanza. Va bene gente, ora è il vostro turno. Pensate che la storia dell'antico Egitto vada effettivamente molto più indietro di quanto i nostri libri di storia ci abbiano mai fatto credere? Come sempre, facci sapere i tuoi pensieri, suggerimenti e feedback sul video di oggi nei commenti qui sotto. Inoltre assicurati di lasciarci un like e di iscriverti per ulteriori aggiornamenti sugli enigmi storici più controversi di tutti i tempi. Con questo, grazie per aver guardato e ci vediamo la prossima volta.